Buongiorno, ma oggi l'obiettivo sono arrivato all'Auba, dall'altra parte dell'Auba. Le strade sono letteralmente vuote, sono assurdo, splendido, cioè dimmi che l'aspetta, ma ora c'è proprio via, c'è il mare, deviazione improvvisa per questa luna. La benzina prima di tutto. Ma io dico, no, ci dovrebbe proprio essere a quest'ora, precisa, la nave è qua. Abbiamo anche una roba professionale. Belle scale. Altro qua abbiamo fatto anche il secondo episodio di una parte, cioè abbiamo girato una parte del secondo episodio di Vestlife 2. Cioè, tanto che abbiamo girato anche una parte del secondo episodio di Vestlife 2, però era un raro strano, non era così bello. Quindi c'è un raro tanta roba. Qui l'unico problema è che sono loro, in mezzo a un po' le palle. Che bello è a registrare con l'iPhone. Ma ogni tanto alcune situazioni di guardia, guardi no, qualche problemino, tipo questo tuo sole così particolare. Ti ritrovi a avere il sole bruciato. E se vuoi fare una cosa più rafficinata, non è il massimo. Però arrivi in un punto del genere che poi non ti affreca più niente e dici, va boh, dai. Scioccante. E comunque questo è il piccolo problema di restare delle luci, ma... Quindi, se ti vedete adesso in un caso del genere ben specifico, cioè, sono un po' ben specifico. Però forse un... qualche... Lavorino in più, magari con qualche hub di terza parti... Un qualche fotocamera di terza parti che a me non piacciono, però oggettivamente può anche venire qualcosa di carino. Può risolvere tutto. Altra roba a me non ho mancanza. Potrebbe essere una 5x. Perché ho fatto due foto in 5.7x. Ora, mi è venuta una roba molto carina, ma vedi, cerco di mettervela sempre, le ritrovo proprio specifiche. E se ne ho un altro punto di scatto. Perché al fine è sotto dove eravamo ora. Bello Rio, mi piace. Io, così direi che siamo troppo in orario da foto ambient o cose così al posto di foto alba. Che ormai è un momento orario. Mi sta qui, è palese del re leone. Cioè, palese. Poderoso. Cioè, dai. Sono le 7 e un quarto. Io sono sveglio a due ore e non ho ancora mangiato nulla. Ho una discreta... Uh, 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 uh. Io se non vengo bene oggi, in video non so quando verrò. Eh, bene. Ciò che c'è il sole alto. Wow. Si riparte. Ormai, praticamente, è giorno. Che devo dire. Cioè, poderoso. Poderoso come in ogni vlog. Davvero, davvero poderoso. Wow. Siamo finiti nel verde. No matter where you're from, all around the world, it's just...